Stravolta la viabilità a Genova, dove per dei lavori di manutenzione straordinari all'interno del rio Carbonara è stata chiusa, e lo rimarrà per un bel po', Via delle Fontane. È così iniziata nella notte tra lunedì e martedì la prima fase del cantiere, caratterizzata dalla demolizione dell'isola sparti traffico di Via Gramsci e la delimitazione con New Jersey. Eliminato inoltre l'attraversamento pedonale davanti a Via delle Fontane, in alternativa è possibile usare la stazione della metropolitana d'Arsena come sottopasso. Lavori impegnativi che si sono resi necessari dopo il ritrovamento di uno sfornellamento, quindi un crollo parziale, nella copertura del rio e che porterà alla realizzazione di un nuovo tratto di collettore. Via delle Fontane, che da piazza dell'Annunziata porta in Via Gramsci, non è più percorribile in direzione mare, quindi tutto il traffico viene deviato su Via Balbi, strada che da qualche anno è percorribile solo da autobus, taxi e mezzi autorizzati, e oltre ad essere costellata di fermate del bus, è gestita da un semaforo tarato per i mezzi che solitamente la attraversano. Tanti anche gli autobus che cambiano percorso, come il 18, il 18 Barrato e il 32, saranno quindi giorni difficili per il traffico cittadino. La fine dei lavori, infatti, è prevista entro giugno.